Sono Simone e sono qui per partecipare al contest di PokéShiny Mettici la Faccia Oggi apriamo una bustina di Pokémon Double Crisis L'espansione con 7 carte in ogni busta Senza codice Voilà Allora, faccio il trick 1-2 1-2 E iniziamo Carvania Team Magma Admin Zangoose Lyron Baltoi Doppi Energia Acqua Reverse E Sharpido Foil Bene, vi auguro buona fortuna per i vostri video di apertura Ciao ciao